Hey! Se è interessato a vincere una gift card magari per comprare dei V-Bucks, io vi invito a fare questi semplici passaggi magari per essere il vincitore di questo grande contest. Innanzitutto, lascia un like sotto questo video, iscriviti, attiva la campanella e lascia un commento inerente a questo video. Ma soprattutto devi condividerlo, perché se avrai fatto tutti questi passaggi potrai essere vincitore per vincere questo monte premi di V-Bucks. E ora vi lascio al video. Hello guys! No, ho sbagliato! Dovevo dire Hello biondi! Benvenuti in un nuovo video! Spero che avete passato una bellissima giornata a scuola, se non è così vi allegro io. Siete contenti, eh? Ragazzi, questo video tratterà principalmente dei luoghi che usciranno nella stagione 6. Ci tengo a precisare che non tutti saranno presenti, ma sicuramente una news che è stata svelata, almeno due o tre, sono certi al 100%. Vi raccomando di guardare tutto il video, perché alla fine vi metterò un trailer che riguarda la stagione 6 di Fortnite, che sta per arrivare. Ma prima di partire ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare tantissimi pollicioni al video e mi raccomando, nel primo commento troverete il biondo col suo canale. Facciamolo arrivare a 1000 iscritti. E ora passiamo alla posizione numero 7, che ci sarà il vulcano. Già da qualche tempo si sente parlare della presenza di questo vulcano che distruggerà, o comunque insorgerà, nella zona del lago. A quanto pare, oltre al rumore, già ci viene proposto come sarà questo vulcano, ed esistono due possibilità. La prima è che il vulcano sia ricoperto interamente di lava, mentre la seconda è che saranno presenti cascate e passaggi d'acqua con la maschera del Ragnarok. Entrambe comunque le soluzioni sono veramente fantastiche e potrebbero essere un bel cambiamento da portare nella mappa, anche se sono convinto che quest'ultima vi ho mostrato sia quella che ci sta di più rispetto all'altra. Poi fatemi sapere giù nei commenti la vostra. Come sesto cambiamento che ci sarà, sarà il castello. Non so bene in che collocazione potrebbero metterlo, ma siccome già hanno creato una sottospecie di castello in rovina di Tomato Town, potrebbe insorgere un altro enorme castello come base, magari dei supereroi, o non lo so. In ogni caso serve fantastico e mi raccomando, restate per le prossime clip, così vi vedrete il trailer della stagione 6. Come quinto cambiamento che avrà la mappa sarà il parco fantastico. Abbiamo visto tutti dei video meravigliosi di gente che costruiva parchi di giochi attraverso la battaglia reale, che usava i carrelli per attraversare la montagna russa fatta da semplici costruzioni. Ebbene, nella stagione 6 potrebbe esserci una zona interamente dedicata a questo, in pratica di un bel parco giochi. Come il quarto luogo che sarà cambiato avremo una zona innevata. Nella stagione 6 inoltre potrebbe venire introdotta una zona completamente innevata. Con tanto di funivia, di montagne, un bel resort dove poter trascorrere il tempo in attesa che i vostri nemici vengono a farvi fuori, che bello eh? Insomma, sarebbe comunque una zona molto bella in cui passare soprattutto per chi non è abituato a vedere la neve. Fatemi sapere se da voi nevica o come da me che ha nevicato una volta in dieci anni della mia vita. Terzo ultimo luogo che sarà giunto su Fortnite ragazzi abbiamo il paradiso dei pirati. Già nella stagione 5 si era parlato di questa zona che sarebbe stata interamente dedicata ai pirati. Probabilmente vicino al mare, ma non so bene in che collocazione precisa. Potrebbe nascere una bella nave con tanto di porto per i pirati, tanto di botti pieni di vini. Penultima collocazione che sarà cambiata nella mappa di Fortnite sarà lo squarcio nel mondo. Un'altra idea che è stata concepita è quella di uno squarcio che ha aperto la mappa di Fortnite. Considerate che con tutto quello che è successo fino ad oggi, tra supereroi, razzi, squarci, spazi riemporali e quant'altro, il mondo di Fortnite potrebbe risentirne il peso proprio su se stesso e quindi perché no? Uno squarcio che si crea proprio nel mondo e che si può attraversare solo con una costruzione e altro. Mi raccomando però non caderci dentro, se no potrebbe succedere quello che non dovrebbe mai succedere. Ragazzi siamo arrivati all'ultimo punto di questo video e come sapevate appunto era il trailer. Ragazzi miei però prima di mostrarvi il trailer io vi invito a lasciare tantissimi pollicioni in su, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanella e soprattutto passatevi il mio profilo Instagram che trovate giù in descrizione e mi raccomando andate a trovare anche il biondo. Ragazzi miei come ultimo punto abbiamo il trailer alieni su Fortnite. Di questo video ve ne ho parlato già dall'inizio, chiedo scusa in anticipo se non ho inserito i sottotitoli, ma era veramente troppo macchinoso e difficile anche per me. Quindi spero comunque che vi piaccia il video di per sé perché potrebbe rilevare quello che sta per accadere nella stagione 6 di Fortnite presto in arrivo. Um, so this is created by me and Bob, and then it starts off with a few establishing shots of the bus and stuff like that. Um, the bus and the, like the map before the alien induction comes in. And afterwards here comes the, uh, first alien deduction, like hint I guess. Uh, music kinda climaxed, you guys could see the beginning of a new ship, I guess you could say. A new alien ship, a beam comes down once again, um, that would be more important later on. As you guys can see, um, a guy skydiving and from the skydiving something happens. You can see the driftskin running away from the alien mothership, I guess you could say. And, uh, goes into the sh- And it kinda just gets abducted and taken to the alien planet, which is the idea of this trailer, which I will explain to you guys later on in like a different video. Um, yeah, so, you guys can see a new location, um, it would be like a magnetic mountain or something like that. Um, everything would be magnetized towards it. As you guys can see, here's the human base, which I will be talking to you guys about the storyline later on in this video, so, or later on in the next video. Um, so as you guys see the mountain again, the driftskin comes in, you can see it. And also a new alien, you guys can see. So this, this, this would be a new alien kind of skin. Uh, it would be for the season 6 update, I guess you could say. And, yeah, and here's the final scene, the alien ship, season 6 begins now with the, uh, and, yeah guys, that's it. E ora, siamo arrivati a fine di questo video. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate tantissimi pollicioni in su, se vi è piaciuto. Mi raccomando, giù nei commenti, ditemi la vostra teoria di cosa ne pensate della stagione 6. Condividete il video con tutti i vostri amici, mi raccomando, passate anche dal biondo che a 1000 iscritti farà il suo primo video. Io sto morendo letteralmente di caldo, domani passerete una bellissima giornata di scuola, siete contenti? No vabbè dai, vi, vi, vi capisco ragazzi, vi voglio bene. Passate per il mio profilo Instagram che trovate giù in descrizione, ho anche il nome qui in basso. Noi ci vediamo col prossimo video, adesso vi lascio i video che ho caricato ultimamente, ma li trovate sul canale. Noi ci vediamo e show belly! No, dovevo dire show biondi! Mi imbroglio sempre! Hello guys, benvenuti, siamo arrivati in un nuovo video. Io e il biondo. Vi ricordate il video che abbiamo fatto ieri dove parlavamo del pack dell'Xbox che praticamente avranno quella skin fighissima gratis? Bene, oggi abbiamo la risposta. Io e il biondo ha la vostra domanda di ieri che praticamente è stata questa. La PS4 hanno le cose gratis, l'Xbox ha le cose gratis, ma chi è che manca l'appello per i pack gratuiti? Ebbene sì ragazzi, la vostra domanda è stata questa. Nintendo Switch, Nintendo Switch, Nintendo Switch. Ebbene ragazzi miei, ora anche il Nintendo Switch avrà la sua skin gratuita più dei V-Bucks. E questa volta è ufficiale ed è confermato dalla Epic Games stessa. Quindi potete andarvi a informare se non ci credete. Ragazzi, ma prima che passiamo al video, prima che vi mostro l'immagine completa e soprattutto prima che comunque vi specifico il pacchetto, passiamo alle solite premesse. Ma prima delle premesse stesse, devo ringraziare io e il biondo, dobbiamo ringraziare piuttosto MrMotta999AWC. Carissimo o carissima, scrivimi su Instagram il tuo nome da qualsiasi piattaforma che giochi e possiamo giocare insieme. Siccome comunque giocando da computer possiamo giocare insieme. E grazie per esserti abbonato e grazie che supporti me e il biondo. E ragazzi miei, qualsiasi persona che si voglia abbonare al canale per supportare me e il biondo, trovate la scritta abbonati accanto al tastino iscriviti.